Gabriele Costanzo regalerà un nipotino a Maria e Maurizio? Punto molto presto Maria De Filippi e Maurizio Costanzo raggiungeranno un grandissimo traguardo ovvero le nozze d'argento Ora il loro prossimo obiettivo è diventare nonni. Il loro figlio adottivo Gabriele infatti, è felicemente fidanzato, quindi non è da escludere che presto accontenti i suoi genitori Maurizio Costanzo e Maria De Filippi diventeranno presto nonni. L'indiscrezione del magazzine nuovo Nell'ultimo numero di nuovo, il magazine di gossip diretto da Riccardo Signoretti, ha voluto augurare alla De Filippi e Costanzo di diventare al più presto possibile di diventare nonni Sembra proprio stando a quanto scritto sul periodico, Gabriele e la sua fidanzata starebbero pensando di allargare la famiglia Da che cosa si deduce tutto questo? Osservato l'ultimo post del Costanzo Junior su Instagram, il 28enne accarezza con dolcezza la pancia della sua amata Francesca Quattrini Nella foto in questione si vedono i due innamorati in una spiaggia del litorale del Lazio Quindi molto probabilmente potrebbe giungere molto presto una bella sorpresa a Maria e Maurizio Punto per Maria De Filippi Il figlio Gabriele Costanzo sarà un bravo genitore.C'è da dire che Gabriele Costanzo e Francesca Quattrini stanno insieme da pochissimi mesi Tuttavia il settimanale di Gossip Nuovo ha azzardato che molto presto metteranno su famiglia A differenza di Maria De Filippi, Maurizio ha già dei nipoti grazie ai figli avuti nei precedenti matrimoni In una recentissima intervista, il giornalista romano ha confessato che ogni settimana i nipoti lo vanno a trovare In tutto ne ha quattro e si chiamano Brandonina, Bernardo e Tito, nati rispettivamente da, Saverio e Camilla Costanzo La De Filippi, invece, quando venne intervista dalle gemelline a Vieni da Medica Terina Balivo, confidò che secondo lei il figlio Gabriele sarà un bravo genitore